Le ricariche di tre le fai? Da cinque ore si può? No, le do la scheda da cinque. E non si può fare via terminale? No, il terminale si parte da dieci. Perché? Io lo devo fare per l'iPad, non posso usare la scheda. Deve trovare il posto dove fa da cinque. Qualcuno c'è ancora che le fa da cinque. E chi sono i negozi loro? Edicole, Stabaccai, Centitino per esempio, Vodafone o chi per esso. Ok, grazie. Fai le ricariche il cellulare, frena. Da cinque. Ma non voglio la scheda col terminale? È bloccato. È bloccato? Sera. Fai le ricariche il cellulare, frena. Della? Di tre. Della tre, eh? Sì. De cinque si può fare? No, non ce lo schede a dieci. Sul terminale non si può fare. No, la cinque non ce l'ha inserita. Non ce l'ha inserita. De un canale.